Può essere anche una cosa che a un certo punto crea una serie, un pattern che a un certo momento si può fermare e quello può essere una casualità, sì, assolutamente, matematica, esatto, sì. Il decostruire io lo vedo come un'esplorazione. E di leggerezza assoluta proprio. Penso che è una buona idea usare qualcosa che già esiste e raffinare o creare qualcosa di nuovo che è qualcosa che già esiste. Simple, but sophisticated. La simplicità delle cose più belle. The perfection of the simple line. Il valore dell'amicizia, il valore della condivisione di un momento piacevole. Ti fa pensare a un bell'ambiente con amici. Si spatiali trazendo accessorio e sopra l'huasa, un'amica e... ... ,, ... ... ... Grazie a tutti.